ciao a tutti e bentornati su ferrara web questo sarà un video brevissimo e speriamo non un flop nel senso che questo video parla di un acquisto fatto su un noto sito cinese per un articolo per il quale ho speso un centesimo vuol prendermi in giro mia figlia doveva acquistare una cosa su questo sito nella fattispecie un regalo per un'amica e in omaggio mi davano la possibilità di scegliere tra una serie di articoli tutti quasi a un centesimo qualcuno a qualche centesimo di euro in più io ho optato per questo prodotto lo vedete qui eccolo qui inquadrato ecco dove sta eccolo qua in questa busta e portiamola qui in primo piano e se vi chiedete cos'è ve lo dico subito questi cazzi è un adattatore usb si rialata ecco un centesimo adesso la domanda è può funzionare questo cosa hai visto non so cazzi tu in verità non amo acquistare da questi siti cinesi per una serie di motivi uno tra i tanti il fatto che i tempi per ricevere la merce sono spesso biblici la merce che ricevi è di qualità spesso scadentissima barbecue coi fiocchi e diciamo in un certo verso il fatto che ricevere la merce con tempi lunghi mi aiuta anche perché altrimenti con i prezzi bassissimi che fanno io ci andrei sperso è un po come l'ikea no tu entri vedi che tutto costa un euro e 52 euro diciamo lo prendo per un euro che vuoi che sia un euro io guarda un euro e 52 euro e poi arrivi alla cassa e spendi 120 euro è finalmente arrivato il momento di scoprire se questo dispositivo funziona dall'etichetta è dichiarato usb 3 sata 2.5 e adesso vediamo se va eccolo qua allora non vi nascondo che al tocco e molto chip qui sembrano esserci due fori forse per dei led c'è scritto access e power questo invece connettore usb 3.0 e per la nostra prova prendo un disco meccanico in questo caso e vado a collegare il mio dispositivo usb siamo pronti per connettere il tutto 3 2 1 via si accendono i led sia il power che ok wow legge come vedete legge le partizioni del disco funziona ok ho notato però una cosa vi avevo detto che c'erano due scritte sotto i forellini dove poi ci sono in realtà i led power e un attimo access in realtà poi access è il led rosso del power e dove c'è sito power e il led blu che blinca dell'access vabbè fa niente funziona a un centesimo quindi magari adesso ci facciamo una prova per verificarne l'effettiva velocità e possiamo dire che questo video non è un flop almeno per quanto riguarda il prodotto le visualizzazioni poi è sempre lo stesso discorso è in corso l'esecuzione del test crystal disk mark e possiamo vedere che i risultati di questo adattatore non sono affatto male abbiamo 118 mega al secondo in lettura e 112 in scrittura quindi va anche bene che carino ma adesso vediamo al pratico prendiamo un file da 2 giga e 4 unico file iso e copiamolo per vedere quali saranno le prestazioni in velocità di scrittura e sono buone riusciamo a scrivere a 110 mega al secondo quindi in una ventina di secondi questo file sarà trasferito non male veramente super beh che dire sicuramente sono contentissimo del risultato ottenuto su questo prodotto al quale non avrei dato un centesimo anche se in realtà un centesimo l'ho dato e beh di sicuro non voglio con questo video incentivarvi ad acquistare prodotti su questi siti cinesi io vi ripeto l'ho fatto solo perché c'è stata questa occasione ecco non so se in futuro rifarò acquisti del genere anche perché vi dicevo i tempi di consegna sono spesso veramente lunghissimi e a me piace ricevere subito quello che acquisto per il resto spero che questo video vi sia piaciuto che lo abbiate trovato interessante se sì lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni se acquistate su amazon ricordatevi di passare dal mio sito contribuite a mantenere questo canale youtube e per il resto vi ringrazio infinitamente vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao